eeeh bella a tutti ragazzuoli bentornati sul canale col vostro del bello 86 buon martedì 5 settembre a tutti ben tazzi nuovo video stesso nooo perchè il football konami è in manutenzione quindi oggi al vostro del bello chi è venuta la brillante idea di farsi sparare in bocca su call of duty dopo 6 mesi che non ci gioco quindi ragazzuoli tra poco si parte video divertente andiamo da pesaro a codaro e un attimo ragazzuoli si parte buona visione olè eccoci qui ragazzuoli allora caffettino così facciamo uscire il nevisia e scannoi allora vediamo un po' qua che io non mi ricordo nukaz partita veloce veterano anche no sono quelli che con un colpo ti segano in due allora io farei partita veloce multiplayer x gioca quadrato filtro filtro ok filtro sulle modalità deathmatch a squadra il classico tutti contro tutti dominio allora io giocavo quando giocavo quando giocavo deathmatch e dominio io starterei così deathmatch e dominio ma anche uccisione confermata ok queste tre modalità ragazzuoli andiamo matchmaking trovo una partita avvia ricerca di una partita con ping 30 millisecondi qui i server ce li hanno con i controcazzi scusate il francesismo non siamo su conami quanti si starta che non me lo ricordo 12 6 contro 6 forse madonna è una vita è una vita speriamo che mi trova subito qualcuno manutenzione i football 3 giorni il 7 si starta dal 6 forse si può giocare offline intanto qui forse ha già trovato la partita vediamo partita veloce a Santa Sena border crossing caricamento livello sta cercando gli altri player membri nella lobby 12 però mi dice quindi tra poco si parte l'attesa e qui mica si comincia andiamo a farci sparare in bocca dei coddari magari qualcuno lo prendo si 6 5 si parte raga si parte si parte ok vamos dominio dominio ok questa me la ricordo si fa per dire abbassiamo le cuffie se non ci capiscono cazzo ok andiamo a sfruttare i 144Hz del monitor da gaming anche se l'impostazione PS5 è 120Hz allora arma M4 fucile da sal va bene va bene va bene così si parte raga buona visione mamma mia c'è la sensibilità che è un impedito perché non mira ok adesso mira andiamo raga mica me lo ricordavo più veloce nel codere allora dominio in teoria dovremo conquistare le bandiere i punti di controllo tanto la prima sarà una morte muoio male me lo sento raga me lo sento c'ho già c'ho l'ansia guarda no me l'hanno segato l'abbiamo addocchiato però guardalo prendiamo bravo si pazzesco peggio che ti sputa non muori mi sparano un ciococos muoio se esco attenzione tu di fila mica riflessi raga bravo sicuro pazzesco ecco qui sto ricaricando affanculo vabbè pedito mi pedito però attenzione siamo partiti forte non si vede qua attenzione alle beni samprini raga pazzesco controlliamo che tu spara mi farò tre giorni di confronto quasi quasi nell'attesa di conali bersaglio a terra bersaglio a terra bravo e nostra c'è alfa che loro charlie charlie è nostra stiamo perdendo charlie quindi da tutta altra parte vorrebbe essere che il respawn e siccome hanno alfa li fa respawnare di qua tanto muoio male raga me lo sento io sono da solo me la vado a conquistare alfa 57 metri dice la mappa 40 metri ecco vedi vedi l'ha fatto rinascere l'obiettivo charlie al sicuro il nostro UAV è in sorvolo siamo sull'obiettivo alfa se qualcuno viene a conquistare con me la conquistiamo un po' prima e c'ho pau da solo minchia l'ho visto pazzesco raga oh micchia il caffè ha fatto uscire il nevi sia il che in me abbiamo tutti gli obiettivi abbiamo tutti gli obiettivi carichiamo perché poi finisco i colpi e tanto è sempre così guarda quello madonna quanto è difficile però la sensibilità dà una vita da un gioco raga questo è nostro non gli spariamo sto ricaricando vedo dei nemici vediamo se scuro lanciando una granata così a muzzo pazzesco raga pazzesco micchia non ci credo l'ho lanciata così a muzzo bravo attenzione prendiamo bravo sono io bro sono io bro allora non sono l'unico collisionato promesso charlie andiamo su charlie ma la campero se arriva qualcuno non è brutto camperare dai eccolo mi sparano un capo un tiro una flashbang ho poche munizioni bravo allora cosa c'ho lui l'UAV indica punto d'attacco allora stanno prendendo B vediamo vediamo se faccio qualche kill ho visto raga giuro che l'ho visto bastardo bastardo cosa stiamo facendo un secondo 8 kill dai pensavo peggio pensavo peggio sono sincero pensavo di morire come un cane il nemico cattura bravo il nemico cattura bravo lancio una granata crepato adesso me lo prendo io bravo c'è ma il bro qua è qui però muori muori ah io non vedo un cazzo questo è flashbang arriva qualcuno da qui sicuro stai che muori male muoio male va bene va bene dici kill va bene andiamo a premi per saltare quadrato allora stanno prendendo alfa bravo Charlie è nostro quindi andiamo su alfa anzi andiamo su bravo che tanto allora adesso vanno lì da si spostano subito intelligenza tattica mamma mia me la son vista brutta raga è già crepato vai come si viene eh per rianimare vedi lo spirito di squadra è stata una rotola mica è stata una strage questo un'altra classico codaro è la sensibilità è la sensibilità non ce l'ho più queste sono le skill di onei che mi ha fatto perdere la sensibilità su cod cos'è sta roba per terra qua sparano addosso si va dietro infame verso di mare riflessi 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 lo sapeva già dovere sono prendendo anche charlie morto prendiamo charlie vieni bro stai qua ok così flashbang attenzione lancio una granata l'obiettivo non è sicuro eh non l'ho visto non l'ho visto raga ma inculata a sangue bro c'è qui vai 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 il nemico prende bravo il nemico prende bravo ma anche charlie ma charlie è nostra il nemico ha preso bravo granata muzzo eh lo c'è qualcuno si qua c'ha avuto i riflessi stiamo prendendo bravo prendiamo bravo grande cortina pomogena del bro bravo al sicuro si 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 fottiti cambio caricatore no per caricare porca troia si muore il nostro UAV è in sorvolo il nemico senti i passi si così ragazzi panico ultimo caricatore abbiamo perso bravo guardalo è in corsa è difficilissimo prendere non si fa il giro di qua astuzia se me lo trovo in boc uuuu così mica sto tryhardando raga sono primo con 18 kill pazzesco pazzesco un obiettivo bravo uovi nemico nel settore alfa 24 colpi sono senza colpi tanto muoio quindi guardalo 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 ah l'hanno spiegato quindi conquistiamo alfa vieni brothers lo sapevo me lo sentivo me lo sentivo perché colof duty è bastardo che lo fa spawnare da dietro infatti ci sono i fenomeni che sanno dove respawn ti aspettano appena nasci ti sparano in bocca il nemico prende bravo ce l'ho dietro salta salta via 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 ragazzi abbiamo vinto prima vittoria 2703 non c'è stata partita cazzo pensavo di essere primo va bene lo stesso va bene lo stesso però è quello che ha fatto più kill attenzione ragazzuoli ancora un goccio di caffè che ce lo speck snaz che in me vuoi fumare una siga allora allora quanto valuta quanto hai trovato divertente la partita che hai appena giocato divertente per niente divertente molto divertente feedback è positivo tanto colof duty è uguale da 15 anni a sta parte vedazzi non è che il prodotto che funziona non si cambia un po' come fifa allora mira precisa qui salta tutto torna indietro facciamo partire un'altra partita vediamo cosa esce adesso questo cos'era dominio connessione fluidissima connessione fluidissima anche se ho l'ho merda non vedo l'ora che mi installano la 100 mega allora adesso partita veloce tarak non l'ho mai fatta quindi moriamo male perché quello fa tantissimo sapere da dove ti possono arrivare i nemici si parte tarak che cos'è uccisione confermata death match non lo dice nel frattempo sta cercando gli avversari 10 a 12 si starta 6 contro 6 ti sa se hanno messo qualche modalità in più con più player tipo la battlefield battlefield è 32 contro 32 almeno quando giocavo io delirio delirio allora qualcuno è già entrato cosa fa startare 10 9 10 e 12 devono essere se no ti fa partire dai che c'ho voglia di giocare io porca troia parti c'ho qualcuno in parti scusate vuoi sentire ma che mica sono in live che ve lo chiede ho condiviso anche l'audio del parti mi sa ma non è italiano super super st 81 bro mi senti bro si starta vamos ragazzi 7 6 5 noi siamo i cortak contro i spec group ci spaccano il culo adesso perché si me lo sa death match a squadre l'ambiente desertico va bene quest'arma M4 assalto non l'ho mai fatta vamos ragazzoli buona visione no non l'ho mai fatta questo eh ma non c'è io preferisco dominio perché ci sono dei punti di controllo così la gente va qui devi girare come la merda nei cubi per provare una passata qualcuno l'abbiamo già seccato però oh sparano ma quelle sono le scintille del quadro elettrico mi sembravano dei proietti morca troia ragazzi miei che grossa mi sa che ci sono tanti cecchini cambio caricatore cambio caricatore è un cecchino sicuro possibile presenza nemica seguo devo ricaricare lo sky non ce n'è c'è qualcuno dietro mi sa guardalo bastardo l'avevo visto l'hanno seccato godo oh 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 chi è che spara cecchino cecchino è pieno di cecchini eh guarda qua mi ha sparato in fronte questo italiano decisione di jolly r83 ok io ma non mi ricordo neanche come si switcha l'arma o se prima di quando muori oh 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 via eh questo non era il cecchino tedesco bastarmi che cruco mi gira il cazzo e sarà ma tu dei cruci vai 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 partita più morta eh così dominio è più frenetico lo preferisco sulla minimappa non si accende niente di rosso questo è il nostro spara l'hanno segato un cecchino sicuro quindi togliamoci dal cazzo alla veloce prima che diventiamo carne da macello è mortorio è un mortorio così portale disco io l'ho preso sì l'ho preso era già stato ferito però quindi è bastato uno sputo l'abbiamo seccato guardalo l'hanno segato vado sui tetti muoio male perché io non ho mirino non ho cecchino non ho niente a parte che non vedo nessuno ho un puntino rosso sulla minimappa sta sparando eccolo qua muore vaffanculo altri puntini rossi stanno tryhardando tutti di qua sto ricaricando madonna che pa- chi è che l'ha preso? panico minchia mi è morto davanti eh vaffanculo non sono tutti i cecchini eh però wow 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 oh wow wow oh oh oddio questo è un pochino sicuro via di corsa via 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 siiii 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 cosi ho visto ho visto no . raio era 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 cadena da dietro 15 anni che uguale anche qui ancora da dietro la donna mia panterò di il caldo per la campanella sopra io non so la mappa non so che punto è dove cazzo è camperato? lo sai tu bruh è camperato lì? è camperato lì? lancia una granata! no che chi è? cittino bastardo bastardo ancora jolly ha rotto la trama segato cazzo è una botta non colpa 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 no no non colpa è qualcuno sicuro l'ho visto ma ne sono più forti su jolly qua è KODARO! è KODARO! Brode San Codaro Inutile che ci rinnovo il duello Perché se me lo trovo davanti mi frigge E' lui! E' lui! Giovanni 82, basta, vendetta fatta, servita Possiamo anche morire adesso Oh, infatti, possiamo anche morire L'importante era uccidere una volta Jolly C'è nessuno? Sembra che non c'è nessuno, sembra Appena esco, sicuro Oh, ho sentito qualcosa Ecco, lo sapevo io, lo sapevo io Camper, basta, quel tedesco, quel crucco Lo dove sei dare, dai Irony 81 E' un po' vai vai ok ok corretta roma time run decisioni la via Mamma mia Ora lui raga Ma ce l'ha con me Ce l'ha con me Perché sa che magari mi vede che sono italiano Se la vuole sfogare con me Ahia Eh si c'è riflessi a troie Riflessi proprio a troie Soldato nemico qui dove però Sopra Non sono i punti da dove può arrivare l'avversario Quello fa la differenza E' proprio più basse come queste qua Aperte Meno femetiche più ragionate Io non la conosco E muoio con i cani Guarda che mio amico Starto camper di merda dove cazzo è rimboscato questo Guardalo Guardalo Sfigato che sei talmente sfigato che se ti casca il cazzo ti rimbalza in culo Pazzesco che gente Mi mancavano i codari Sono come quelli che fanno mellina sui football Sono come quelli che fanno mellina sui football Mi canta E' ancora qui Tanto mi ammazza di nuovo Non lo sento No si è spostato L'ha ucciso Vabbè 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 Clashbang Non vedo nessuno cazzo Giolli Troppo forte raga Cosa sta facendo? Sta facendo 23 decisioni Un mostro Un mostro Questa la perdiamo male Questa la perdiamo male raga Questa la perdiamo male Attenzione Come cazzo fa? Come fa? Un piccolino Ma che armi che c'è questo? Sconfitta L'abbiamo persa male Vai Vediamo se esce l'ultimo dominio Me lo sparo E poi vi saluto Beh Dazzi Sconfitta Allora Fammi fumare una sigla Devo caricare L'Aikos Vediamo cosa esce Ma Male Penultimo Male 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 Sono morto male Sono morto male Joker Lo mostro Allora Cosa si gioca? Ancora con il team È bloccato Niente Partito di nuovo Matchmaking Mino automatico Mira precisa Qui Fotte sega Torna indietro Salta tutto Ok Speriamo dominio Io lo preferisco Più stretto Partita veloce Un dominio L'ultimo dominio Dai E' scarica E' scarica È proprio scarico Vediamo cosa mi trova Bedazzi Partita veloce Ricerca di avversario Te Trovata In bassi Ma la modalità Dove cazzo La dice Non ci capisco più Un cazzo Mi credete 11 di 12 Che il mio soldato È un figo Qui non fa startare Se manca uno Non fa partire Mi sa Bisogna essere per forza 12 Sei da una parte Sei dall'altra Mami nella lobby 11 Scegli X Non so che cazzo Significa Non tocco niente Vorrei che mi butta fuori Ok Gli ha trovati Ah no Fa startare anche 6 contro 5 Poi magari lo aggiunge In game La partita Già iniziata Uccisione confermata Ok Uccisione confermata Praticamente si ammazza E bisogna passare sopra La piastrina del cadavere Per prendere più punti Però questa qui Anche non l'ho mai fatta Come mappa Che sa quante cazzo Di mappe avranno giunto In 6 mesi Allora Andiamo È aperta È grossa Vabbè ragazzuoli Ultima partita E poi Salute Uccisione confermata È brutto Perché non la conosco Sento già sparare Adesso lo seguo io Vendico il mio amico Sì così La piastrina là sopra La vado a prendere Che mi ha fatto Sicuro sì Siamo partiti bene Raga Questa la prendo Uccisione confermata Questa è il mio amico La strage raga La strage Siamo primi sicuro Primi Vai 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 Che sono partito bene Poi mi carico io Queste belle però Muori Muori così Sì 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 Ale Sì Ale Sì Bastardo Va bene va bene Vai 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 Sono con te Sì 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 va bene lo stesso Va bene lo stesso Va bene lo stesso Bastardo Questo è un pro Siamo in vantaggio noi Siamo in vantaggio noi Oh da dietro Bastardo Nel cranio Nel cranio Puntava solo quello C'è strina Uccisione confermata Uccisione confermata Ce n'è uno dietro Mi ha segnato la minimappa Sarà stato crepato da qualcuno Ce n'è uno là sopra Lontano da prendere Ce n'è uno là dietro Sto ricaricando Sto ricaricando No Abbiamo più Due Uno l'ho preso sicuro L'altro non so Dai qua che ti sputa Non muori Madonna Ha passato alla velocità Della luce Fortissimo Bastardo Io scarsissimo Lui Forte Credo eh Dai però Come cazzo fa Recupero rapido attivo Che arma c'ha questo Cosa spara Però più attiva di prima Lo è Così mi diverto un po' di più Prima mica An agonia Non l'ho preso Non l'ho preso Sì che la mia arma è base Quindi magari devo sparare Non l'ho preso Per caricare Chi è Qualche figlio di Indrocchia Sì sì C'è qualche figlio di Indrocchia Sì Una è confermata Vabbè Due Due Volevo prendere due piccioni Con una fama Niente Ma il segato vivo Muori Ti ghiama la piastrina Conferma un ucciso Dei scivolati sto cazzo Sei bravo Ale Carica Carica Sessanta colpi Sono il doppio di trenta Per qualcuno Ecco Ma è passato attraverso la porta Ci sta Perché stiamo portando Sì Ma attenzione Adesso mi gaso Madonna mia Riflessi Riflessi Chi è? Paura Sì Sì Qua c'ho gli abusi Sto ricaricando Sto ricaricando Aia Il nostro UAV è in sorvolo Bombardamento nemico vicino a voi Bombardamento nemico vicino a noi Quindi entriamo al riparo Via Aaaaaah È stato più veloce lui Da dove? Da dove? Sono curioso Da sopra Con la magno Grazie bro È partita Eh sì Erano troppi 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 Occhio Sento dei passi nelle cuffie Amico mio Qualcuno l'ho preso? Ma non ne prendo neanche uno Va bene così Via C'è qualcuno sicuro È stata per Da dietro Bastardi Sta registrando ancora lì Sì Credo di sì Bravo bravo Stai qua Che fa appunto S S S Intanto è sempre così Mi ridi da una parte Ti spunto dall'altra No Non spararmi Arno Tu Ti spunto Sul nemico Mi raccoglio quello di mercurio Pazzesco Sembrava l'antagonista Di Terminator Torri, infermimento 2, la notte del giudizio Granata lanciata Ti guardo le spalle Eh beh, andiamo assieme, va Io non lancio a mozzo, raga O la va la spacca È andata Sì, così Eh, Dio, Dio Eravamo partiti bene Non c'è proprio i riflessi Così, a mozzo Guarda Occhio dove spari Occhio dove spari, fai davanti mentre sparo Che cazzo vuoi Guarda dove cazzo si va Sopra Arriva l'attacco con mortaio alleato Pazzo di merda era lì Pazzo di merda Oh la madonna, cosa c'è qua dietro? Tanto spunta di qua adesso, sicuro Sto ricaricando Mamma che panico Eh sì, eh sì Questo è il punto cruciale della mappa Lì scoppia il bordello Lì c'è sempre il bordello Tanto mi sa che è quasi finita La perdiamo questa sconfitta Sì Sì l'abbiamo persa Ragazzuoli Spero che vi siate divertiti Vuoi stare bene Vi saluta Vi rinnovo l'appuntamento a un prossimo video Non so se continuare a giocare qualche partitozza Di colo fluo di questi giorni Nell'attesa di E-Football 2024 Stando con la speranza Ragazzuoli Un saluto a tutti Buonasera Ciao a Bedazzi Lui è Stenso